E' necessaria come l'aria che respiriamo una vittoria a Porta del Foro, 11 anni senza vittorie sono un'enormità e quindi punteremo veramente tantissimo a riuscire ad interrompere questo digiuno. Il quartiere di Porta del Foro riparte da Roberto Felici figlio dell'ex rettore Giancarlo che si avvia così a diventare il nuovo rettore di Porta del Foro dopo aver vinto con 282 voti le elezioni del quartiere Giarlo Cremisi. E' un cognome noto, è un cognome pesante e questo soprattutto è una responsabilità ancora ulteriore perché pensare a quello che ha fatto mio padre per Porta del Foro e per la giostra del Saracino è di stimolo e spero di riuscire a fare almeno un decimo di quello che ha fatto lui. Le votazioni si sono svolte lo scorso fine settimana per il rinnovo delle cariche dirigenziali, grande la partecipazione, il 76% e dei soci aventi diritto. Se il consiglio appena eletto confermerà l'intenzione degli elettori sarà veramente responsabilità di tutti riuscire a riportare unità di intenti all'interno del quartiere. I primi impegni saranno quelli di arrivare alla giostra che ormai è vicinissima, nelle migliori condizioni e di partire subito per migliorare alcune cose delle nostre strutture e del nostro quartiere. Nel programma presentato una delle prime cose era quello di fare anche noi il museo della giostra, il museo del quartiere e di rendere un pochino più accogliente nei limiti del possibile la nostra sede, il nostro circolo. Resta invece ancora da sciogliere il nodo attorno al ruolo di capitano dopo che Dario Tamarindi ha deciso di fare un passo indietro. Contavamo in tanti moltissimo su Dario per la sua esperienza, per la sua capacità e per il suo buon senso. Speriamo che non ci abbandoni, che ci rimanga vicino lo stesso e adesso valuteremo tutti insieme chi scegliere come capitano.